Parliamo di Due Occhi Diabolici, diretto da Dario Argento e Giorgio Romero. Questa è l'edizione che gentilmente Raspberry Records mi ha inviato, che vi invito anche a seguire tra l'altro sul suo canale. Edizione super lusso questa, Due Occhi Diabolici. Vi faccio vedere che dentro questa scatola c'è il film. Adesso lo apriamo e altri oggetti come appunto una spilla di Edgar Allan Poe, una specie di sottobicchiere di un gatto nero con un cappio. Non so perché mi fa ridere questa cosa del cappio e del gatto nero, vi giuro, è una roba che dovete vedere il film per capirmi. E qua poi c'è una chicca che Rust Blade ha fatto per questa edizione, che è stampare un libro apposta con i due racconti, da cui sono tratti i due segmenti del film. Dentro ci sono i racconti e anche delle illustrazioni. Sono in italiano e in inglese. Qua c'è una cartolina che onestamente, se Stefano poi mi spiega cosa rappresenta, perché non riesco a... Qui c'è... Sono i due film chiaramente, le due storie, da dove sono prese queste illustrazioni. Comunque una riguarda appunto il racconto del caso del signor Valdemar e l'altro, il gatto nero, un racconto un po' più famoso di Edgar Allan Poe. Il progetto Due Occhi Diabolici doveva essere un progetto molto più ambizioso, più ampio e qualcosa che probabilmente, se fosse stato esattamente come lo avevano, se si fosse riuscito a concludere come lo avevano pensato, oggi sarebbe probabilmente uno dei film più conosciuti della storia del cinema horror, perché l'idea era fare probabilmente quattro, mi sembra, segmenti e gli altri due, quindi Dario Argento, George Romero, gli altri due sarebbero stati diretti da Wes Craven e Stephen King, appunto, nei panni di regista. Quindi la prima cosa che penso è che aumentando ancora di più il calibro dei registi in ballo, questo avrebbe reso questa antologia molto più famosa e popolare. Purtroppo per impegni, mi sembra, impegni appunto dei due registi mancanti, decisero, penso, di farlo solo loro due e comunque alla fine il film è comunque un film incredibilmente eccezionale e ha comunque dentro due nomi che non sono due persone poco rilevanti nel mondo del cinema horror. Stiamo parlando di Dario Argento e di George Romero, cioè che hanno, ognuno col suo stile, ognuno con le sue tematiche, che hanno veramente rivoluzionato il cinema. Il primo racconto, il caso del signor Valdemar, è il racconto di George Romero ed è un racconto che parla di una moglie giovane che in combutta con un uomo decide di sfarsi del marito per avere l'eredità. la classica situazione appunto che si può vedere in tanti thriller, in tanti gialli, solo che appunto nel film di Romero e in questo racconto c'è, ed è molto azzeccato per lui, c'è il tema anche del non morto, cioè quest'uomo alla fine non muore o comunque sembra non morire come dovrebbe per via di una particolare procedura medica che gli è stata applicata. Il film di, mi sembra che duri anche leggermente meno il film di Romero, devo dire che l'ho apprezzato tantissimo perché è una storia molto semplice proprio perché c'è questo impianto del tratimento della moglie che si vuole disfare del marito, è un classico, è proprio un un cliché quasi classicissimo e infatti per questo proprio perché è un cliché è qualcosa che già conosciamo viene fuori quanto sia importante l'impronta che tu dai a una storia quindi l'atmosfera e tutti i particolari dettagli piuttosto che la storia in sé cioè la storia in sé fondamentalmente non è così originale eppure il film il segmento di Romero è estremamente affascinante è affascinante perché Romero genera un universo ha quella capacità di creare un universo come lo fa? Lo fa tramite un morto che già semplicemente per il fatto che decide di non morire o di non morire in modo convenzionale inizia a creare un mondo un universo che non conosciamo che è il mondo dell'aldilà e ci apre ci spalanca questa porta poi più avanti e questa è una parte leggermente spoiler lui annuncerà la presenza di esseri che stanno arrivando e quindi mettendo all'erta i suoi i suoi aguzzini i suoi assassini che in realtà il peggio deve ancora venire e la fascinazione sta proprio in questo cioè nel generare curiosità e mistero aprendo delle porte verso un mondo fantastico che non conosciamo la semplicità e la bellezza di questo racconto sta proprio in questo in più Romero che i morti viventi li sa trattare benissimo riesce a portare proprio dei dettagli delle cose che riguardano appunto questo cadavere questo non morto chi meglio di lui può trattare e rendere inquietante un cadavere che già di per sé è un cadavere inquietante ma lui lo rende ancora più inquietante con questa voce che sia nel doppiaggio sia nella lingua originale sono sembra veramente una voce è interessante perché il tipo di di suono che dà la voce è un suono lontano un suono come se il cadavere fosse un un passaggio che la voce deve fare ma la voce non arriva dal cadavere arriva da molto più in basso arriva dall'inferno da un luogo di morte quindi questa voce così quasi lontana ti dà questa sensazione che ci sia qualcosa di più profondo ed è in queste piccole cose che si crea questo fantastico universo in una storia semplicissima e meravigliosa per me è scuola di cinema questo film anche questo film nonostante stilisticamente sia a livello proprio di inquadrature vari aspetti anche legati alla fotografia dove c'è una fotografia molto più asciutta molto meno vistosa meno sfarzosa è comunque scuola di cinema questo film proprio per questa capacità di rendere semplicemente con pochi elementi una storia affascinante passando invece al diciamo al segmento di scritto e diretto da Dario Argento e andiamo a parlare del Gatto Nero è un film assurdo è un film veramente assurdo è veramente difficile ricominciare a parlare di questo film intanto c'è un grandissimo Harvey Keitel che per me è uno degli attori anche più adatti a fare la parte di uomini un po' squilibrati mi viene in mente il cattivo tenente dove veramente ecco ci sono delle analogie quest'uomo è un uomo insomma che ha una fidanzata e insomma decide o comunque non decide lui inizia a scoppiare in lui un'ossessione per questo gatto della sua donna della sua compagna che lo ossessiona lo ossessiona a tal punto che vuole ucciderlo che decide di ucciderlo l'ossessione per questo gatto e per anche un suo profondo bisogno di sadismo cioè lui scopre comunque di essere un sadico viene fuori il suo sadismo la sua seconda identità che appunto lui tiene nascosta scatena appunto l'omicidio di questo gatto scatena tutta una serie di eventi che lo porteranno in una sorta di thriller in cui viene in qualche maniera viene braccato viene deve nascondere ciò che combina ma allo stesso tempo lui quello che combina lo espone anche perché è un fotografo che è un fotografo di scene del crimine di cose macabre e quindi crea anche un libro dove tutto quello che a lui lo attrae viene anche un po' esposto la cosa affascinante del racconto di di Dara Argento per me è lo stato di allucinazione in cui si svolge perché è molto sognante sembra quasi che sia sempre un sogno all'interno del segmento c'è anche un sogno in cui il protagonista si ritrova in un'epoca medievale nel quale viene giustiziato tra l'altro gli effetti speciali sono di Tom Savini che partecipa anche all'interno del film come attore come fa spesso fa quando collabora con qualche regista e al di là del sogno che diciamo si inserisce con prepotenza in una storia che però è una storia comunque sognante delirante sembra quasi sotto effetto di allucinogeni lui in questa storia si comporta in modo illogico e da schizofrenico dal punto tale da poi uccidere e qua anche qua spoiler quindi saltate questa parte se non l'avete visto uccidere la sua compagna colpendola con una foga incredibile con una specie di mannaia c'è una bellissima scena dove la colpisce in modo quasi casuale al punto tale che la colpisce nella mano tagliandole rompendole praticamente a metà una mano con un effetto speciale che per l'epoca doveva essere veramente cruento da vedere e oggi ancora ha un effetto bellissimo ecco quello che però mi sarebbe piaciuto farvi vedere qualche immagine per farvi vedere quanto Dario Argento ha uno stile pazzesco pure qua c'è tutto è molto ricercato e ci sono scene di ogni genere fatte veramente di una bellezza estetica incredibile dai movimenti di macchina sia in generale sia quando riproduce il punto di vista del gatto la soggettiva del gatto ecco che sembra veramente un gatto che salta da un tavolo al pavimento e poi si muove sia per questo tipo di appunto situazioni particolari in cui cerchi di creare il punto di vista del gatto ma anche in altre ci sono movimenti di macchina in quadrature veramente spettacolari non so perché io personalmente sono rimasto colpito da una scena finale in cui questo non è spoiler perché non la riuscite a contestualizzare per cui non vi preoccupate particolarmente colpito da una scena in cui c'è del pelo c'è questo pelo di gatto che gocciola sangue mi è sembrato quasi che nessuna cosa in questo film fosse lasciata al caso che ogni occasione ogni occasione era buona per mettere del macabro dell'horror delle suggestioni quindi usare proprio il sangue il rosso tutto quello che ha in mano nella tavolozza Dario Argento per poter creare inquietudine e ribrezzo perché questo è un film anche che fa molto ribrezzo per alcune scene davvero molto horror che si discostano un po' da alcuni film di Dario Argento che sono più sofisticati ecco diciamo questo questo è molto sofisticato e al contempo è anche molto esplicito in certe scene quindi l'ho apprezzato tantissimo proprio come film horror nonostante poi sotto ci sia fondamentalmente una storia thriller quasi allucinogena cioè una roba davvero davvero folle Harvey Keith è il top del top chiudo questo insomma racconto di questi due film che sono un film solo dicendovi che intanto ringrazio Stefano per avermi mandato questa edizione ma non solo perché questa edizione è più bella delle altre insomma trovate faccio vedere quella che c'è all'interno poi del box trovate anche altre edizioni molto belle ma anche il DVD il blu-ray semplice vi consiglio il blu-ray perché si vede veramente bene all'interno trovate anche le cartoline che aspettate perché questa ve la devo far vedere che questi sono due idoli assoluti ecco qua trovate le cartoline no vabbè il tizio che disse di seppelisce vabbè per prendere gli denti di cosa stiamo parlando questo è un poster quello che vi posso dire che non se ne parla molto di occhi diabolici questo è appunto il caso del signor Valdemar e qua c'è il gatto nero peccato che non sta mettendo a fuoco bene ma insomma qua c'è un bel adesivo di Rust non si merita diciamo di essere un pochino dimenticato questo film quindi io spero che la mia recensione anche se poi appunto molto difficile promuovere il cinema horror anche del passato spero che possa svegliare le coscienze di qualcuno la coscienza di qualcuno all'interno dell'edizione trovate allora trovate l'intervista a Dario Argento il backstage l'intervista a Pino Donaggio che tra appunto fa le musiche di questo film trovate anche la cononna sonora sul sito di Raspberry Records l'intervista a Luigi Cozzi e gli approfondimenti di Federico Frusciante e il trailer questo è tutto per la recensione di Due Occhi Diabolici spero che vi sia piaciuta e che vi faccia venire voglia di vederlo di acquistarlo anche in edizione semplice se non siete collezionisti però appunto riscopritelo perché merita merita e lasciate eventualmente un like al video e un commento sotto e un commento e un commento che vi sia piaciuta